Gianna Fratta, testimonia del MedFood Anti-Cancer Program e in realtà di valori universali della prevenzione. Sì, è stato un grande piacere oggi essere qui perché riuscire a declinare in qualche modo la forza e il potere della musica anche in ambito medico è per un musicista importante. La musica raggiunge dei livelli emozionali dell'essere umano, tocca dei tasti in modo talmente immediato che può essere certamente di supporto alla medicina, alle cure. Veramente come si diceva stamattina si muore forse più di paura, più di solitudine, più di disagio che non di tumore. La musica può essere un supporto su questo, aiutare a trovare il coraggio per affrontare la malattia e mettere in contatto se stessi con qualcosa di più profondo e qualcosa che ci lega fortemente alla vita, al nostro estere, al nostro passaggio su questa terra.